Quando si lavora con i rettini, cercate sempre di preparare dapprima i livelli delle ombreggiature di base e solo in seguito quelli più scuri. Prima di continuare, assicuratevi di aver premuto e fissato adeguatamente i rettini precedenti, quindi collocate un altro foglio di carta sopra al disegno e sfregatene con decisione la superficie, utilizzando uno strumento specifico, il Tonhera, una gomma o un righello di plastica, uno strumento con cui possiate premere a sufficienza sul disegno sottostante, così che i rettini non si sollevino quando applicherete quelli successivi. Bene, quando aggiungete un altro strato di rettini, dovrete fissarlo a quello precedente, ma il procedimento è lo stesso già visto. Grazie. Quando si sovrappone un rettino, mentre lo appoggiate alla superficie del disegno, controllate la sovrapposizione dei diversi decori. Se vi piace l'aspetto complessivo e non si crea uno strato effetto moiré, potete proseguire e iniziare a tagliare. Se notate crearsi strani effetti, potrebbe essere sufficiente ruotare leggermente il rettino, così da ottenere una migliore sovrapposizione ottica e ottenere un effetto più piacevole. Grazie. 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 dell'occhio premete con forza nuovamente poi se volete aggiungere altri dettagli potete realizzare piccole lumeggiature utilizzando una gomma molto abrasiva premete abbastanza seguendo la linea superiore dei cappelli così da rimuovere gradualmente parte del rettino in modo molto delicato così da ottenere una lumeggiatura sfumata come questa poi rimuovete le sbavature oppure potete anche graffiare via il rettino con gentilezza usando la lama se usate la lama di taglio in modo che sia praticamente parallela al foglio e potete realizzare graffi davvero controllati e precisi una volta stregato via l'eccesso vedrete più chiaramente il risultato e il resto qua i tratti davvero netti e precisi che potete realizzare con una lama